Parità salariale in Italia e in Europa è il convegno promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza della Cattolica di Piacenza assieme all'Università di Modena e Reggio Emilia, nella quale Michele Raitano, professore di politica economica alla Sapienza di Roma, ha parlato agli studenti di disuguaglianza economica, meccanismi e ruoli di genere. Ci sono molte evidenze che le disuguaglianze in Italia sono molto alte e da molti punti di vista stanno crescendo, sia fra generi sia soprattutto all'interno di ogni sottogruppo, quindi noi abbiamo molte disuguaglianze che crescono in primo luogo nel mercato del lavoro. Quindi queste differenze enormi che crescono nel mercato del lavoro che si accompagnano a molti lavoratori a bassissime retribuzioni, tra cui moltissime donne e contemporaneamente però persone che guadagnano molto bene. Da capire, secondo Raitano, cosa innesca questi meccanismi? Una chiave di lettura potrebbe essere in qualche modo rassicurante, dicendo che sono i mercati che premiano le persone che sono più brave e più meritevoli, ma allo stesso tempo moltissime evidenze mostrano che i meccanismi attraverso cui si generano queste disuguaglianze spesso sono meccanismi inaccettabili, sono legate a mercati che non funzionano bene, a posizioni di rendita, oppure a situazioni in cui i lavoratori sono in certo senso sfruttati, riescono a ottenere meno di quanto dovrebbero ottenere nel mercato del lavoro. Conclusioni e considerazioni finali rivolte agli studenti sulle azioni promosse dall'Unione Europea per la parità retributiva e il divario salariale di genere, affidate a Tindra Dabbo, docente di politica economica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Studiare attentamente le misure della disuguaglianza, di capirne le determinanti, e di cercare quindi insieme proprio non solo ai docenti ma anche a quelli che sono gli attori di politica economica di individuare e di valutare le politiche più adatte a raggiungere questo obiettivo.